eccoci qua signori beh lo scudo questo è il turbo ottimo meglio di così ok io consiglio di portarmi all'esterno mamma mia dart si è suicidato se trovo qualcuno ah quindi sono entrati? no non ho voglia eh grazie al cazzo oh sono il tuo capo eh no che mito che sei piano mio piano eh dov'è il condotto? ne ho uno dietro aspettiamo ah si? cosa che credi di fare? oh gli fai il migliore eh dart è il migliore ragazzi quello che si uccida ma perchè? oh andiamo c'è skywalker dov'è? 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 porca va no attacca attacca ah ma è contro di me no amico volevi? oh ma qua porca vacca ci sono quelli da rosso rosso 4 portato tricchi al condotto di scarico porca va te lo perdo eccolo qua muori caro aspetta eccolo qua ragazzi devo dire che è molto equilibrato molto forca vacca a parte adesso che mi hanno tolto oh piano porca vacca tutti contro di me adesso eh eh ragazzi mi sono divertito troppo porca vacca che sicuro in min sì così non è è Grazie a tutti.